Buongiorno ragazzi, buona vigilia, auguri a tutti, facciamo questo video però prima devo andare a prendere il pane e poi dopo torniamo a casa per gli auguri. Niente ragazzi sono arrivato al panificio, ho fatto la fila e non ce l'avevano, quindi torno dopo a prenderlo. Tra l'altro fuori mi sono pure litigata con una signora perché io chiedo chi è l'ultimo, non risponde, mi metto dietro un altro signore e poi dice che sta vale prima, cioè io chiedo perché non rispondete, bene, vabbè comunque sono a casa, andiamo dopo. Ok ragazzi, rieccoci a casa, abbiamo fatto altri giri, altre cose, siamo andati a dare un paio di auguri di Natale e adesso direi che siamo a casa quindi posso fare gli auguri anche a voi. So che avevo detto che l'ultimo video dell'anno, cioè che l'ultimo video della serie dei Vlogmas sarebbe uscito domani, quindi il 25, però in realtà ho pensato che domani che il 25 appunto abbiate da fare, abbiate comunque parenti, farete cose, quindi ho preferito fare questo come ultimo video e darvi anche gli auguri. E quindi dopo di questo video ci rivedremo direttamente poi il 31 per gli auguri di Capodanno e queste cose qua con un video speciale. Quindi niente ragazzi, io non vi rubo ancora altro tempo, qui dal mio albero di Natale vi faccio gli auguri, spero che possiate passare un felice Natale, una felice vigilia, spero che mangiate tantissimo e aprite anche regali. Qua a terra tra l'altro ci sono tutti i vari regali che ho fatto che adesso vi farò vedere la montagna. E niente, questo sarà un video molto molto breve perché appunto penso che sia più importante trascorrere il tempo con la vostra famiglia anziché stare su YouTube a guardare video. Quindi ancora auguri ragazzi e noi ci rivediamo il 31 dicembre per gli auguri finali di Buon Anno. Bella! Grazie a tutti!